Quando pur non piccolo ero sicuramente ignorante, ho sempre pensato che per raggiungere un pianeta bastasse puntarlo con un razzo e raggiungerlo. Poi Keplero, Newton, il movimento dei pianeti, l'effetto fionda, la distanza, mi hanno fatto capire che è come per gli sport con la palla, devi immaginare dove sarà, non dove è. Insomma andare su Marte non è un punto punto e in questo lungo viaggio fatto di milioni e milioni di chilometri, le correzioni di rotta sono inevitabili. Così la Mars 2020 della NASA, Hope degli Emirati Arabi e la cinese Tianwen-1 hanno aggiustato la rotta come da programma in modo da raggiungere il pianeta rosso il prossimo febbraio come previsto. Manovre riuscite perfettamente sia per la sonda Mars 2020 lanciata per portare su Marte il rover Perseverance alla sua prima delle cinque manovre di correzione della rotta previste nella missione E poi la missione cinese Tianwen-1 che il primo agosto scorso ha acceso il suo motore principale per ben 20 secondi e infine per la sonda Hope degli Emirati Arabi lanciata il 19 luglio e che ha l'obiettivo di mappare completamente la meteorologia di Marte.